Moduli di informazione e di progettazione rivolti al settore della logistica, con un percorso di mentoring per le imprese pilota aderenti all'iniziativa. Individuare per ciascuna azienda il driver più adeguato per realizzare innovazione. Accesso a conoscenze specialistiche altamente qualificate e tecnologicamente avanzate. Conoscenza del proprio livello di maturità rispetto ai cambiamenti e tecnologie di Industria 4.0. Sviluppo, test e sperimentazione di soluzioni per il proprio business per l'Industria 4.0 con tecnologia 5G. Accesso a contributi e finanziamenti attivati dalla Regione Toscana a supporto di progetti di innovazione. Due moduli formativi, quattro incontri di tre ore ciascuno, dalle 14.30 alle 17.30. Area ingegneristica, tecnologie 5G e applicazioni nel settore della logistica. Area economica, applicazioni tecnologiche, processi innovativi e modelli manageriale nello scenario Industria 4.0 e cambiamenti dei modelli manageriali. Primo incontro, 6 novembre 2019. Logistica integrata e economia circolare. Secondo incontro, 11 novembre 2019. Soluzioni ICT per l'Industria 4.0. Terzo incontro, 20 novembre 2019. Riorganizzare la supply chain. Nuove forme di management. Quarto incontro, 27 novembre 2019. Cosa la tecnologia 5G può fare per l'industria? Tre innovation manager selezionati dal PIN saranno abbinati alle imprese aderenti all'iniziativa. Attività, analisi specifica su stato di salute delle aziende su innovazione, strategie e adeguamento tecnologico. Ricerca del driver mediante percorso di value discovery in due step. Somministrazione di un questionario di orientamento che guiderà le aziende nel loro fabbisogno di innovazione connesso al 5G. Restituzione di un report aziendale che mostrerà esigenze e progettazioni possibili da sperimentare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.